Deve stare tranquillo, non preoccuparti. Appunto. Resta tutto in famiglia. Tu dici di no a me. Non provare a farlo mai più, è chiaro? Bene. Per le interviste del prodotto Fernando, ciao Roberto. Eccoci qui con Roberto Chevalier. Eccoci qua. Finalmente ci siamo visti dal vivo perché purtroppo la prima intervista è stata nel periodo del Covid e quindi l'abbiamo dovuta fare in videochiamata. E oggi finalmente ci vediamo perché poi fra qualche tempo tu sarai uno dei premiati del mio premio Città di Velletri alla carriera cinematografica. Ma partiamo da te. Chi è Roberto Chevalier? Roberto Chevalier possiamo dire che è un bambino prodigio del cinema perché ha iniziato molto presto la tua attività cinematografica. A 5 anni. In 1957. Ci vuoi raccontare un pochino di quel periodo? È stata un'esperienza bellissima che mi ha poi coinvolto per tutta la vita. Mi scelse Bolognini per fare questo bambino. Nel film Giovani Mariti con Antonella Lualdi, Franco Interlenghi eccetera. C'erano tanti attori dell'epoca famosi. Poi feci il provino in televisione perché Bolognini disse a mia madre che ero bravo. Feci il provino in televisione. In giuria c'era Mario Landi il regista che mi chiamò subito per fare allora in diretta il romanzo di un maestro. E poi come succede ancora oggi quando c'è un bambino che funziona tutti si passano la voce, cominciano a fare il doppiaggio, la radio, altra televisione, teatro e crescendo crescendo via via nel tempo. Eccomi qua. Molta notorietà all'epoca l'hai avuta con David Copperfield. David Copperfield sì, avevo 13 anni. Me lo ricordo anch'io perché lo vedevo in quel periodo diciamo sì. Tu sei attore, sei doppiatore, sei direttore di doppiaggio e sei dialoghista. Dialoghista. E faccio anche i testi delle canzoni dei cartoni animati. Ecco qui. O dei film dove ci sono delle canzoni di doppiaggio tipo Capitano Uncino. Questo non l'avevamo detto. Tipo Belle e tanti altri. Insomma parecchie cosette. Allora parecchie cose, tante cose, tanti anni di esperienza e noi ci troviamo oggi proprio in una sala di doppiaggio per vedere Roberto all'opera come avete visto prima, un accenno diciamo sul doppiaggio di un film. Che film era questo? Questo è un film francese, un poliziesco. Un poliziesco francese. Ci vuoi spiegare un attimino come funziona il doppiaggio diciamo, in breve diciamo? Il doppiaggio è fatto di brevità purtroppo perché noi entriamo in sala, se io sono attore il direttore di doppiaggio mi spiega il contenuto del film, mi spiega il mio personaggio, poi vediamo la scena come avete visto prima. Abbiamo davanti l'adattamento che viene fatto appunto da un adattatore che deve combaciare con il senso, con il sync e con i contenuti dell'opera e poi immediatamente sentiamo come fa, vediamo come interpreta, entriamo in empatia con l'attore barra personaggio e lo facciamo così in pochissimi secondi, in pochissimi minuti. Tenendo conto che loro magari ci hanno messo mesi per studiare il personaggio, le riprese hanno richiesto magari molto tempo, noi invece dobbiamo fare tutto in breve tempo. Sintetizzare. Ma diciamo è il mestiere dell'attore, il mestiere del doppiatore che viene così passato anche di generazione in generazione con le innovazioni tecnologiche che si succedono ma fondamentalmente rimane un lavoro di bell'artigianato. Non abbiamo parlato se tu in fase di doppiaggio devi studiare anche diciamo le battute oppure... No, no, si arriva in sala e si fa, si vede e si fa. Ah, quindi io pensavo che funzionasse anche con imparare diciamo determinare battute. No, assolutamente. Primo non rientra nei canoni, secondo una volta 30 anni fa, 40 anni fa magari ogni tanto ci facevano vedere prima il film ma poi avevano paura della pirateria eccetera quindi non vedevamo neanche più il film. Entravamo in sala, il direttore di doppiaggio come ho detto ci raccontava il film, il personaggio ce lo spiegava e poi ce lo spiega e poi andiamo lì e facciamo... Hai parlato? Anche io quando faccio il direttore faccio la stessa cosa. Ecco appunto, hai parlato di direttore. Direttore di doppiaggio, qual è il compito del direttore di doppiaggio? Il direttore di doppiaggio diciamo è il regista del doppiaggio, è colui che sceglie l'abbinamento delle voci su quell'interprete, è colui che le organizza, che le dirige, che dà le direttive di interpretazione, poi c'è l'assistente che cura la parte diciamo di sync, ma è il direttore di doppiaggio, è fondamentale perché appunto è il regista del doppiaggio su cui grava tutta la responsabilità del prodotto. E dialoghista invece? Il dialoghista è importantissimo perché è quello che deve restituire l'interezza dell'opera, il significato, i contenuti, mettere i dialoghi in italiano a sync, quindi io quando faccio anche i dialoghi del film mi diverto moltissimo perché in questo modo hai proprio una conoscenza e un'interpretazione del film a tutto tondo. Quindi sicuramente ti piacerà fare più il dialoghista che il doppiatore oppure... Ogni zona ha il suo fascino, perché il dialoghista è bello perché partecipa al processo creativo, come direttore perché aumenti la tua creatività dirigendo gli attori e scegliendo chi deve interpretare il ruolo e come attore farlo è un'altra bella soddisfazione. Allora per chiudere questa chiacchierata diciamo, parliamo un po' tu nella vita hai doppiato tantissimi personaggi famosi mondiali proprio, sei doppiatore di Tom Cruise, di Tom Hanks e di tanti altri. Facci un po' di nomi. Tom Cruise, Tom Hanks, Andy Garcia, Dennis Quaid, David Bowie, Greg Kinnear, sì non riesco a ricordarli tutti nel doppiato centinaia, però devo dire che è sempre una meravigliosa avventura perché Philip Seymour Hoffman ad esempio quando ho doppiato in Truman Capote è stata una sfida incredibile perché era un personaggio e un attore totalmente al di fuori dei miei canoni, aveva una voce chioccia, una voce molto acuta, pieno di difetti di pronuncia, game, un personaggio poi complesso e mi ha fruttato anche qualche premio come tanti altri che hanno vinto nel corso della mia carriera, però quella è stata la sfida più bella perché era un personaggio completamente diverso. Ecco io amo le sfide e quando mi chiedono qual è la cosa migliore che hai fatto io dico sempre quella che farò perché aspetto sempre un attore nuovo che mi insegni qualcosa dal quale imparare e con il quale cimentarsi in una sfida vincente. Un aneddoto importante che ricordi diciamo con molto piacere durante il tuo percorso artistico diciamo ecco? Ma ce ne sono centinaia da aneddoti divertenti ad aneddoti di qualunque cosa tu voglia e qualunque tipo di voglia di situazioni. Però l'insegnamento più grande che ho ricevuto è stato quello di chi mi ha insegnato questo lavoro, questo mestiere, come farlo, come diventare migliore. Parlo di quello che mi ha insegnato Sergio Graziani, Mario De Angelis, Cesare Barbetti, Pino Locchi, cioè incollarsi a loro, respirare con loro, guardare in faccia, entrare in empatia con l'attore personaggio e restituire in pieno la sua interpretazione. Fai quello che fanno loro. Grazie Roberto di questa bellissima ghiacchierata ci hai mostrato un bel po' diciamo del tuo lavoro e magari tanta gente non sa come me non sapeva come funzionava questo... E' un mondo complesso ma vincente ed è una specializzazione del mestiere dell'attore. Allora un saluto a tutti dal prode Fernando e dal prode Roberto. Dal prode Roberto, da questa casa di doppiaggio di Roma della quale non possiamo fare il nome. Ah va bene. No, no. Allora ciao a tutti. Grazie a tutti.